eccolo qua dopo l'analisi della partita ci sono anche le pagelle singole dei calciatori e quindi direi di non perdere tempo perché di cose da dire ne avremo sicuramente tante o mi piace come al solito un commento con anche le vostre pagelle ci vediamo qui sotto sei più ad allegri allora torno a dire la partita non mi è piaciuta tanto se no è stata una partita abbastanza brutta anche ne ho parlato comunque nell'analisi che trovate qui sopra nelle schede però Juventus ha meritato secondo me la vittoria ha meritato di vincere poteva anche sbloccarla prima in altre occasioni questa partita e non portarsela fino all'ultimo le cose che non mi sono piaciute non mi è piaciuto McKennie in quella posizione non solo per via di errori McKennie ma proprio perché credo che sia totalmente fuori luogo e credo che non si debba tornare in quella direzione lì di cercare di limitare sempre limitabile ma cercare anche di vincere le partite senza rischiare di non sbloccarle verso la fine quindi cerchiamo di fare un passo avanti perché se no poi adesso si entra veramente nel vivo della stagione lo diceva anche l'egri l'altro giorno in conferenza poi non si torna indietro non si può rimediare agli errori a questo punto e secondo me la Juve servirà molto di più rispetto a quello che ho fatto vedere tra Cremonese e Udinese per cercare di vincere perché io vado a Napoli con un'idea a vincere è quello l'obiettivo no? andare a Maradona e vincere la partita perché la Juve deve iniziare a fare quel passo in avanti successivo e dire ho una grande opportunità che non avevo e non potevo immaginarmi di avere quando le cose andavano male quando si perdava la Monza quando si perdava la Maccabi quindi bisogna fare quel passo in più quel passo in avanti bisogna tornare a pensare che la Juventus è la Juventus non può accontentarsi dei quarti posti e deve cercare di lottare almeno fino alla fine per lo scuolto poi si può non vincere però devi essere dentro la lotta e adesso io dentro la lotta non mi sento quindi quello che abbiamo visto fino adesso in queste due partite nel 23 secondo me è ancora troppo poco per affrontare una squadra vera come il Napoli tosta, difficile, forte come il Napoli quindi cerchiamo di fare quel passettino in più in avanti e soprattutto è vero che la Juventus poteva sbloccarla prima ma ancora una volta su giocate individuali di Rimaria nasce veramente tutto lì tranne nell'azione che vanno a costruire appunto Chiesa e Paredes perché lì la costruiscono in due non è una giocata individuale è una doppia giocata individuale quindi mi piacerebbe invece iniziare a vedere ormai a gennaio dopo tanti mesi dell'inizio della stagione una Juventus che la mano del natore la fa vedere non solo nella fase non possesso anche in quella di possesso perché lì ancora facciamo un po' fatica quindi credo che comunque tutto sommato la partita sia stata meritata l'ho già detto mille volte, credo che Allegri abbia preparata molto bene in fase non possesso serve fare quel passettino in avanti, se no rimani nel limbo della mediocrità rimani nel limbo del terzo, quarto, quinto, secondo posto e la Juve non può essere questo la Juventus non può essere questo, quindi serve quel passo in avanti prima mentale e poi sul campo Scesni, sei più perché è stato chiamato in casa in un paio di occasioni, risposto presente Udine richiama dei brutti ricordi alla memoria quando si parla di Scesni, ieri è andato tutto liscio come l'olio sei più nelle poche occasioni dell'udinese, Scesni ha risposto presente sei ad Alexandro, mi è piaciuto, credo che sia stato sufficiente ma è stato anche il peggiore della difesa della Juve ma comunque non peggiore perché ha fatto cose brutte ma perché gli altri due secondo me meritano una nota di merito Alexandro che è anche spinto, Alexandro che è entrato nell'azione del gol dell'1-0 velocizzando la manovra scaricando di prima per Baredes, Alexandro che da terzetto difensivo rimane comunque un giocatore diverso rispetto a Alexandro che abbiamo visto come terzino sei e mezzo Rugani, mi è piaciuto, ha rischiato anche di fare gol, poteva essere l'uomo della provvidenza la divina provvidenza, non è stato così però Rugani attento, in un ruolo molto delicato che mi spaventava ve l'avevo detto, invece c'è da fargli complimenti perché ha risposto presente e ha tenuto a galla la baracca ma questo qua invece, questo qua, questo signore qua sa fare tutto, cosa non sa fare Danilo? sa anche rinnovare il contratto perché siamo lì, siamo vicini al rinnovo voglio parlarne in un video ma non solo, voglio anche scrivere un articolo quindi lo troverete sul numero 10, vi invito a scaricare il numero 10 dal link che trovate in descrizione perché tra stasera e domani faccio pubblicare appunto un articolo che parla di Danilo della responsabilità di Danilo, della fascia del capitano di Danilo e se si mette pure a fare gol, gol così pesante, inizia a diventare difficile anche perché Danilo io il primo anno con Sarri non me lo immaginavo così assolutamente no dall'anno di Pirlo in poi ho iniziato a vedere una crescita da parte di questo ragazzo e per quello che vi dico sempre, ragionate almeno su basi biennali e valutare i giocatori, sennò si fa un po' di fatica, a volte si escono anche le brutte figure ma Danilo, ragazzo, è entrato di prepotenza all'interno di questa Juve difende bene, c'è sempre, mette cuore, mette grinta e ripeto, fatto anche il gol che all'interno del gol fa la cosa più facile, se vogliamo però lo fa lui, è lì, il difensore centrale va a raccogliere quel pallone lì, all'ottantacinquesimo bravo, davvero bravo 5 e mezzo a McKennie, non mi è piaciuto tanti errori tecnici da parte di McKennie ma anche tanti errori, proprio perché nasce da un concetto sbagliato la posizione di McKennie come quinto di centrocampo in una difesa a tre poverino poverino McKennie, viene sempre sballonzolato in giro per il campo ma se lo metti poi su Doge, chi devi mettergli di fianco perché sennò è un disastro quello di prima, sempre lui, sempre Danilo però McKennie non mi è piaciuto ma ripeto, non solo per colpa sua anche perché proprio la lettura di Allegri secondo me in questo momento un po' rivedibile ecco, non vorrei presentarmi a Maradona con McKennie esterno vi prego no Chiesa non era pronto? può essere sull'E contro Doge non lo vedevi bene? può essere è andata bene è andata benissimo però ribadisco iniziamo a ragionare anche dal punto di vista degli scontri diretti degli scontri un po' più difficili perché se no cosa fai? finisci la stagione con zero titoli Locatelli 5 errori su errori su errori su errori su errori un cartellino giallo preso per una tirata di maglia in ripartenza dopo un suo errore un cartellino giallo potenziale prima lo poteva prendere per un'entrata completamente a caso nervoso tante chiacchiere non mi è piaciuto proprio non mi è piaciuto 5 secco per Locatelli così come 5 per Miretti anche qui errori su errori su errori soprattutto nel finale un'altra palla su un cross Miretti sbaglia l'aggancio lo stop in area di rigore era un'occasione potenziale anche quella che non diventa tale proprio perché si sbaglia l'ultimo controllo Mire cazzarola di più di più di più di più perché le potenzialità ce le hai le qualità ce le hai in questo momento ti manca questa ti manca questa qui e in questo momento è più pronto fagioli di Miretti dai Mire cazzo che hai ripartito bene poi ti sei perso ma torni torni perché io lo so tanti continuano a dire sopravvalutato qui e là io non la vedo così assolutamente no ma in questo momento manca veramente la testa in questo ragazzo manca la testa sei e mezzo Rabiot migliore del centrocampo il migliore del centrocampo quantità qualità palleggio fisicità intensità tutto quello che puoi chiedere a un giocatore con queste caratteristiche in questo momento Rabiot in questo momento quest'anno quest'anno Rabiot anima della Juventus vediamo cosa succederà alla Torinovo cinque e mezzo da Kostic queste prime due partite dell'anno non mi è piaciuto non troppo secondo me ha bisogno di ricaricare un po' le batterie e di riprendere la condizione non lo vedo particolarmente in condizione non dico fisica proprio condizione di giocare le partite speriamo che a Maradona possa fare la sua gara perché lui le può fare quelle partite importanti se è mezzo Di Maria che disegna calcio poteva essere un voto decisamente più alto perché ha rischiato di fare tre o quattro assist due clamorosi perché sono stati due palloni che ha messo in condizione i compagni di fare gol non hanno trovato l'impatto giusto con la sfera non hanno trovato la direzione l'angolo giusto da dare al pallone ma Di Maria livello superiore quando c'è quando ne ha voglia quando non è rotto quando si decide a giocare Di Maria è un campione peccato che vada a intermittenza un po' troppo intermittente uscito per Crampi vediamo se sarà a disposizione col Napoli speriamo di sì perché sono le partite in cui chiedo a Di Maria di essere decisivo non solo Sassuolo non solo Maccabi non solo Udinese serve col Napoli serve col Milan serve col l'Inter serve in Europa League dato che in Champions insomma 5 Moise Ken sbagliato troppo troppi errori di Ken ma non tanto errori in giro per il campo errori dentro l'area e quando un attaccante sbaglia 3-4 volte il pallone l'impatto col pallone in area di rigore l'occasione di una gol si becca al 5 e la squadra soffre e la squadra deve tirarla fino all'85esimo con il risultato ancora un po' in bilico quindi dai Moise Cazzarola che lo so ho visto che quest'anno ce la puoi fare a fare meglio dell'anno scorso l'hai già fatto meglio dell'anno scorso ma bisogna sempre migliorare ieri troppo 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 poco freddo davanti alla porta perché poteva veramente diventare un'altra partita io vinto sudinese ieri passava dai piedi di Ken montati al contrario in un'occasione della partita di ieri sei mezzo chiesa perché ho già spiegato nel video non voglio tornare su l'analisi dell'azione da gol andatevi a vedere il video che ho pubblicato prima in cui veramente metto i frame ve la descrivo sentita molto quella stagione risentita molto una chiesa chiesa degli impatti sulle partite chiesa io lo vedo già in forma ieri ai microfoni diceva ho saltato le amichevoli durante il precampionato il mister ha deciso di farmele saltare probabilmente per precauzione ma chiesa sta bene chiesa sta bene è praticamente un anno perché domani dovrebbe essere un anno dal suo infortunio ma adesso c'è adesso uno di noi adesso è un trascinatore con la speranza che la San Paolo possa trovarla prima alla titolare dopo l'infortunio e magari una vittoria che potrebbe veramente proiettare la Juve in una posizione di classifica allucinante impossibile da prevedere andiamo sei mezzo a Paredes sono felice di poter dare sei mezzo a Paredes perché quella palla che dà a chiesa è illuminante illuminante della palla che ti fa vincere la partita non prendiamoci in giro non giriamoci intorno perché se Ken non fa gol nelle azioni prima senza quel problema di Paredes non vincere la partita quindi prende sei mezzo entra con chiesa sono i due cambi che fa Allegri entra al posto di un Locatelli molto molto spento e Paredes invece con quel pallone ti fa vincere la gara finalmente una giocata come Dio comanda quelle che mi aspetto da giocatori come Paredes cinque e mezzo a Milik che si entra non fa niente praticamente gli arrivano pochi palloni veramente pochi difficile giocare ovviamente in questo contesto per essere un attaccante in questa Juventus non è impattante come quella cremonese dove aveva trovato quella punizione speriamo che il gol dell'ex possa complicare i sogni scudetto degli Azzurri proprio a San Paolo dove lui ha giocato ed è diventato grande in Italia dove ha iniziato a farsi un nome e adesso gioca con la rivale la rivale che si gioca magari l'opportunità di rientrare all'interno di una corsa scudetto che fino a poco tempo fa sembrava impossibile ma per farlo non serve solo una partita stile udinese cremonese come ho già detto serve qualcosa di più c'è una settimana per prepararla le prossime pagelle saranno proprio lì e spero di essere sereno come sono stato oggi perché oggi sono sereno dopo una partita di ansia vissuta ieri molta ansia perché non pensavo di vincerla e spero di essere